Eccoci con Federico Pozzo, numero uno juniores, rientrato dopo ben sette mesi di infortunio intanto. Sì, sono stati sette mesi difficili l'anno scorso, ma grazie a questo bellissimo gruppo, questa bellissima società, sto riprendendo piano piano e non mi posso lamentare. So che hai disputato le prime due gare, tra l'altro le più difficili, comunque con avversari non da poco, e poi insomma adesso hai ripreso a giocare a pieno. Sì, le prime due gare sono state con la 9 e la Biella, che sono le forze del campionato, ma noi non abbiamo nulla da invidiarli secondo me, e abbiamo preso due pareggi, due punti fondamentali. Sabato è stata di nuovo una partita un po' roccambolesca, su tre a tre, sono partite difficili, in campi difficili, però noi stiamo lavorando bene e secondo me alla fine dell'anno pagheremo. In effetti la classifica comunque lo dice, pian pianino avete raccimolato punti, avete ristalito la classifica e siete proprio ridosso delle due forze, come dicevi tu, del campionato. Direi che è una posizione che vi meritate. Sì, sì, certo. Adesso noi per un mesetto dobbiamo pensare a inseguire, anche perché loro non si fermeranno sicuramente, ma noi neanche. Dobbiamo arrivare alle gare dirette di nuovo con loro, cercando di sorpassarli e continuare così il nostro cammino. Senti, Juniores, a parte appunto il campionato in sedi, è l'anticamera spesso, si dice, della prima squadra. È un tuo obiettivo? Di chi non lo è. Sì, sì, ho la fortuna di allenarmi comunque con la prima squadra, con Mordenti, con il mister Tony Maio, che sono tanta roba. Sono di grande esempio, due brevissime persone e quindi, certo, chi non vorrebbe un giorno poter andare lì, ecco. Io mi alleno solo, ma l'obiettivo è quello, certo. Magari, chi può dirlo? Una giornata verso la fine del campionato? Dipendesse da me immediatamente.